E siamo qui con il professor Fabrizio Pagani, economista, Science Paul, Paris, 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 Roma e vogliamo capire, siccome ieri è stato approvato il sesto pacchetto di sanzioni che comporta anche l'embargo al petrolio che cosa questo potrebbe comportare, eccola qui la pompa di benzina l'afasia prende il sopravvento per le nostre tasche e se è un risultato che potrà davvero minare la voglia dei russi di stare in guerra Vediamo innanzitutto cosa è stato deciso, è stato deciso sostanzialmente un embargo sull'acquisto del petrolio dalla Russia questa è una decisione dell'Unione Europea, una decisione che sarà applicata poi nei prossimi mesi e entro la fine dell'anno dovremmo arrivare a tagliare gli acquisti della Russia fino al 90% quindi rimarrebbe soltanto un po' di petrolio Noi dipendiamo solo del 10% dalla Russia rispetto al gas che invece è un porto molto più forte Però il petrolio è un mercato mondiale quindi se si alza il prezzo da qualche parte del mondo tutto il mondo ne risente a differenza del gas che invece è un mercato regionale Quindi noi sicuramente ne risentiremo nel senso che ci sarà ancora tensione sui prezzi del petrolio, sul prezzo della benzina questo dobbiamo dircelo Allo stesso tempo però il prezzo che è già oggi e che è molto montato negli ultimi tempi che continua a salire anche in queste ore già sconta quell'embargo cioè i mercati già scontano quell'embargo Già lo sapevano in qualche modo che si comportano così e già fattorizzano nel prezzo di oggi quell'embargo Naturalmente un altro aspetto da considerare è che c'è un costo a fare le sanzioni ma c'è anche un costo a non farle perché non fare le sanzioni significa prolungare la guerra e abbiamo visto che la guerra La guerra in sé per noi è un problema economico E' un problema economico di per sé perché aumenta i prezzi perché comunque non abbiamo più dei partner commerciali importanti come l'Ucraina e come la Russia e soprattutto introduce nel sistema un grosso elemento di incertezza e non dico di sfiducia ma insomma prendere delle decisioni oggi sugli investimenti per le imprese diventa più difficile in questo quadro molto complesso La guerra deprime noi cittadini, deprime anche i mercati, deprime anche le imprese In questo momento il petrolio conta più del gas perché poi il gas diciamo, dico banalmente, i termosifoni sono spenti Esatto, il gas è stagionale Il gas però adesso continuiamo a comprarlo e dobbiamo continuare a comprarlo per poter riempire gli stock Cosa che negli anni scorsi non abbiamo fatto o meglio l'Italia lo ha fatto Gli altri paesi europei per delle regioni contingenti avevano degli stock sostanzialmente vuoti e quindi per questo poi abbiamo visto queste fiammate durante l'autunno del prezzo del gas Allora, tema del grano Sappiamo che la mancata partenza dell'Ucraina era il granario d'Europa quindi del grano dei porti ucraini sta affamando gli stati africani Ecco, collegato al vertice non europeo il presidente non africano dice proprio questo che appunto, a parte c'è un problema dello SWIFT sull'acquisto del grano però sappiamo che la materia prima fondamentale è un problema È un grosso problema, è un grosso problema non tanto per noi non tanto per noi direttamente perché noi alla fine importiamo poco dall'Ucraina e anche non molto dalla Russia però per i paesi soprattutto del Nord Africa e del Medio Oriente che dipendono in maniera molto molto pesante da questi paesi e quindi ci potremmo aspettare ed è quello che anche gli responsabili internazionali indicano delle tensioni sociali in questi paesi perché naturalmente i prezzi che aumentano su dei beni così di prima necessità portano delle tensioni sociali E per esempio banalmente perché si muore di fame per dirlo in modo molto semplice, molto tragico Quindi il rischio anche di tensioni sul lato dell'emigrazione perché le persone tendono poi ad andare a cercare i posti dove si sta meglio Certo, peraltro la frase che vi volevo dire la crisi del grano è colpa di Putin ha detto appunto il senegalese Maki Sal che telefonerà appunto a Vladimir Putin L'inflazione, non eravamo abituati a questa inflazione al 6% a quanto stiamo adesso? Più 6,9% quindi ancora di più Siamo al 7% Ovviamente l'inflazione colpisce i più poveri Colpisce soprattutto chi ha meno disponibilità di reddito e chi consuma tutto quello che guadagna Dobbiamo aspettarci ancora qualche mese con un'inflazione alta La nostra inflazione peraltro è diversa da quella americana perché è un'inflazione dovuta soprattutto alle materie prime quindi soprattutto all'energia e al gas e in parte anche alle derrate alimentari però non è un'inflazione come dire radicata ancora nel sistema economico quindi per questo da un lato è bene e male nel senso che è male perché dipende dalla guerra e finché continua la guerra queste tensioni sui prezzi le avremo è anche bene però perché è un'inflazione che una volta tolto diciamo così quei colli di bottiglia che oggi ci sono potremmo tornare ad una situazione che è quasi normale non torneremo secondo me ai livelli di bassa inflazione che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni Un ultimo grafico che voglio far vedere è stato anche all'Ocse come responsabile? Ero responsabile del G20 all'Ocse le riunioni dei grandi gruppi internazionali Ecco, c'è una grafica che gira in questi ultimi giorni soprattutto perché c'è stato un botta e risposta tra il ministro Colau e Confindustria Bonomi perché appunto Colau ministro ha detto ha detto appunto ha esortato ad impegnarsi di più per deformare i lavoratori combattendo con convinzione le discriminazioni e soprattutto assumete di più e pagate di più soprattutto i giovani e i migliori laureati così diceva appunto Colau in Confindustria e Bonomi gli ha ribattuto insomma un po' brutto muso anche lui che bisogna affrontare seriamente i problemi del lavoro ma questo grafico per capirci ci dice che tra gli stipendi del 90 e quelli del 2020 mentre in Lituania gli stipendi sono aumentati del 276,30% in Italia siamo a quanto si vede l'unico paese in cui sono diminuiti del 2,90% Sì, non prenderei la Lituania che all'epoca faceva parte dell'Unione Sovietica quindi è tutto un altro però rispetto alla Francia prendiamo la Francia, prendiamo la Germania, prendiamo la Spagna e vediamo che comunque sono aumentati sono aumentati molto meno quindi è un problema di produttività dobbiamo sostanzialmente aumentare la produttività delle nostre imprese e come lo facciamo? lo facciamo con l'innovazione facilitando l'innovazione, facilitando la formazione dei giovani e con un'introduzione di anche meccanismi di automazione di managerializzazione delle nostre piccole imprese che da un altro lato sono molto attive e molto vigorose sui mercati internazionali non dobbiamo mai dimenticarci che noi abbiamo un grande patrimonio imprenditoriale che si viene invidiato molto all'estero e quindi lo faremo anche con la pace in modo così da poter avere la possibilità di poter continuare a un'economia florida come la nostra grazie a Fabrizio Pagani